Sempre più grande è la necessità d'essere autentici per esprimere quello che più si avvicina a noi stessi attraverso l'arte, ma che cos'è noi stessi? Quindi, ad esempio, quando si scrive in versi, magari soprattutto per quanto riguarda la poesia, oltre che le canzoni, essere autentici e davvero a contatto con se stessi non vuol dire scrivere ciò che arriva di getto, così di colpo e basta, anche, ma ciò che arriva magari di getto dopo aver svuotato, dopo aver ricercato davvero dentro sé l'essenza. Alcuni digiunano per arrivare a se stessi e non è un lavoro appunto di inserimento, bensì di eliminare il superfluo. Ecco, quando senti quell'emozione, quel brivido, quell'essenza, allora arrivano le immagini. L'artista, è l'uomo abile a descrivere l'immagine e più le parole sono fedeli a quello che vede e più risulterà autentico. Ma l'autenticità è vera quando percepita da chi la esprime e da chi l'ascolta e per ascoltarla devi essere nella condizione giusta, di apertura. Ci sono forme tecniche in teatro per arrivare ad essere sempre autentici nell'uso della parola, anche quando si è finti, semplicemente perché essere autentici tecnicamente vuol dire tirar fuori quello che c'è, non la caricatura di quello che dovresti, vorresti o potresti essere. Nella scrittura si fa riferimento a quel momento specifico, nell'interpretazione le parole sono quelle. Canti un testo, reciti un copione, ma le emozioni che provi non sono le stesse. Quelle che provi ora non sono quelle che provi tra cinque minuti. Per questo ogni spettacolo è diverso.